Ciao, mi chiamo Filippo, ho 28 anni, sono un ragazzo di Parma e questo progetto che vedete alle mie spalle è stato realizzato nelle ultime due settimane con un gruppo di volontari internazionali provenienti da Ungheria, Francia e Spagna, un paio di ragazzi italiani grazie all'associazione Ibo, questo progetto ha coinvolto però anche altre realtà tra cui la cooperativa Fiorente e la Scuola del Spare con sede a Onleo Ficino No e quindi di conseguenza ha coinvolto anche altre persone provenienti dal territorio di Parma tra cui studenti delle scuole medie e utenti dei centri, dei centri giovani. Abbiamo realizzato questo murale appunto in due settimane insieme, quindi a più mani, sulla base di un progetto che ho disegnato diciamo basandomi a mia volta su disegni proposti da tutte le persone che hanno partecipato al laboratorio di preparazione e di progettazione del murale stesso. Abbiamo utilizzato per questo lavoro una delle tonalità molto tenui, dei colori diciamo pastello che contraddistinguono anche i nostrile con una linea grafica particolare utilizzando appunto grandi tampiture e nessun tipo di contorno ma solo diciamo sagome di colori pieni che appunto vanno a definire le varie forme. A war camp è sempre una grande opportunità di share dei momenti di vita con altri e ci sentiamo che tutti lavoravamo come squadra, cercando di cheerle un'altro e aiutare un'altro, e anche se non è sempre così facile, credo che abbiamo davvero fatto e abbiamo lavorato insieme come squadra, e ci siamo davvero interessati a tutti e questo è stato davvero piaciuto. mi chiamo Edoardo, ho 20 anni, stanno ne compio 21, sono venuto qui perché mi piaceva l'idea di aiutare a fare un murale e l'avevo già fatta come un progetto diverso. Hai trovato bene Edo? Sì. C'è stato qualcosa che ti è piaciuto di più? C'è una parte del murale che ti piace di più? Sì. Ciao, sono Camilla. Ciao, sono Buruka. Siamo da Hungary. Siamo qui per fare un murale. Sì. 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 I would definitely do this more because I really enjoyed it with a very amazing team and it was so fun, it was a great experience and I encourage every young student to join these camps because it helps you become a better person and helps you experience more in life and helps you grow more so it was a very great experience Hi everybody, my name is Clarisse, I'm from Belgium I've come to this workshop to do a big mural the project interested me because of the artistic side but also because it was to talk about environmental issues and we did a workshop actually on that and the whole mural is about the environment so I was really hyped by this I'm the first one in the U.S. I'm the first one in the U.S. Grazie. Grazie.